Anna, vieni Ale, sali, Alessandra ci parlerà di come Meici ci ha aiutato a far crescere il freelance camp. Allora, che bello parlare da qua, da questo pulpito meraviglioso. Se solo arrivassero le mie slide sarei felice. Ecco, allora, eccomi qua ad Atlanta. Questa sono io al Partner Lab, che c'è stato a fine aprile ad Atlanta, nella sede di MailChimp. Sono nel mezzo circondata da una ventina di persone che arrivano più o meno da tutte le parti del mondo, chi dagli Stati Uniti e dal Canada, chi dall'Europa, chi dall'Australia e dalla Nuova Zelanda. e per un esperimento che sta facendo MailChimp negli ultimi tempi, che coinvolge la rete dei suoi partner. MailChimp prende alcuni dei partner che arrivano, che lavorano in tutto il mondo, non dipendenti di MailChimp, ma persone che usano MailChimp per i propri clienti, e li invita per ragionare con loro di cosa fare, e per ascoltare il feedback delle persone che usano intensamente MailChimp. Come in tutti gli eventi di questo tipo, l'evento parte con un incontro in cui ciascuno si deve presentare, deve raccontare qualcosa di sé. Allora io, ragionando su cosa raccontare di me a tutta questa gente, i miei colleghi partner e tutte le persone che lavorano in MailChimp, perché c'era anche una fetta importante di staff, compresi i cofondatori di MailChimp a questa giornata di presentazione, io racconto tre cose. Racconto la mia attività di consulente di digital marketing e di email marketing, racconto di digital update, il progetto di formazione che ho creato insieme a Gianluca Diego, con cui facciamo corsi in aula e online, e racconto anche del freelance camp, perché come ho detto nel video che avete ascoltato prima, il freelance camp è davvero uno dei progetti a cui mi sento più legata e con cui credo di aver fatto qualcosa di grande e di importante. Ed ecco, voi non ci crederete, ma questa cosa del freelance camp ha fatto un successo pazzesco. Tutta sta gente arrivata un po' da tutto il mondo, cioè vabbè, consulenze e formazione la facevano un po' tutti, ma il freelance camp lo facciamo noi. E quindi in tutte le due giornate successive, voi non avete idea di quante domande mi hanno fatto e di quante persone mi hanno detto avrei voluto avere qualcosa del genere quando ero freelance o mi piacerebbe avere qualcosa adesso che continua a lavorare da freelance, ma veramente i video sono solo in italiano. Eh sì, grazie, sono solo in italiano per il momento. E insomma, quindi io ovviamente, visto che sono una spudorata, ho approfittato di questo grande afflato di interesse per il freelance camp e quindi ho detto a MailChimp, ragazzi, a questo punto è il momento che voi arriviate e sponsorizziate questa manifestazione, questo evento. E così è successo, l'hanno fatto. E quindi quest'anno loro sono qui ufficialmente a sostenere la manifestazione come sponsor, però in realtà ci hanno aiutati a crearla e a gestirla in tutti questi anni, perché MailChimp, come voi sapete, la newsletter che noi facciamo utilizzando MailChimp è uno degli strumenti principali con cui noi ci teniamo in contatto con voi, organizziamo, vi mandiamo le informazioni necessarie per partecipare, per prepararvi, partecipare e poi ricordare quello che succede qua. E quindi ho pensato, in loro invece, dato che non hanno mandato una persona a parlare per loro, di raccontare io, di fare una specie di piccola lezione di mail marketing su come in tutti questi anni abbiamo usato uno strumento, e devo dire l'abbiamo usato per un sacco di tempo, gratis, perché noi siamo passati al piano a pagamento di MailChimp solo pochi mesi fa, quando abbiamo raggiunto più o meno la soglia, la fatidica soglia dei 2.000 iscritti. Ma in realtà in tutti questi anni MailChimp ci ha supportato senza che noi dovessimo pagargli assolutamente nulla. E all'inizio, quando tutto è partito nel 2012, il freelance camp aveva come strumento principale della sua presenza online un semplicissimo blog. Un blog proprio platform base, senza nessuna variante, niente premium, una roba semplicissima in cui stava tutto in poche pagine e in una gran quantità di post. Questo è preso dalla macchina del tempo, come appariva il sito del freelance camp qualche anno fa, nel 2016 per l'esattezza, e come vedete tutte le informazioni erano raccolte in una serie di post che noi pubblicavamo con buona frequenza, interviste e dati per le persone, avvisi per le persone che dovevano arrivare, c'era a fianco, nella colonna laterale, una form per iscriversi alla mailing list, una form generata semplicemente andando nella gestione form di MailChimp e facendosi creare il codice poi che embeddavamo in un widget di testo, quindi una roba alla portata di chiunque anche non sia particolarmente abile nel coding, e tutto questo ci bastava, e era anche molto veloce distribuire le informazioni perché noi usavamo uno strumento molto smart di MailChimp che permette di generare una newsletter a partire da un feed RSS. Cosa significa? Che noi pubblicavamo 3, 4, 5 post alla settimana e poi una volta alla settimana, grazie a un'automazione che potete creare andando nelle email automatiche e scegliendo l'opzione condividi aggiornamenti del blog, share blog updates, noi semplicemente impostato l'indirizzo del feed RSS del blog del freelance camp e deciso che questa newsletter sarebbe partita ogni settimana, una volta alla settimana, il venerdì alle 3 del pomeriggio, generavamo una newsletter più semplice, più scarna di quella che ricevete oggi, ma che conteneva, grazie a questo pezzettino di codice, tutti gli ultimi post. Ecco, se noi la mandassimo oggi uscirebbe fuori un messaggio di questo tipo con l'introduzione cablata nella mail, nel template, ma anche ormai pochissimo al freelance camp, ecco i post di questa settimana, buona lettura, e l'elenco degli ultimi post usciti. Ecco, questo meccanismo del feed to RSS, del feed to email, è molto funzionale come strategia di distribuzione low cost di contenuti che voi già pubblicate, quindi avete un blog, scrivete una volta ogni tanto, impostate la vostra newsletter feed to email, in modo che parta ogni volta che scrivete un post, magari ci potete anche mettere il testo completo di quel post, scrivete tanto spesso, conviene mandare una mail di riassunto con l'indice degli ultimi post che sono usciti. Tutto questo esce fuori gratis, senza nessun bisogno di sbattersi più di tanto. Naturalmente poi, a un certo punto, via via che il freelance camp diventava più grande, anche la nostra comunicazione migliorava, diventava più articolata, più costruita e in questo naturalmente l'email ci supporta, perché l'email è uno strumento ricco che ci permette di poter distribuire contenuti di tanti tipi. Se noi andiamo a vedere quello che è l'editor di una newsletter, di una campagna email all'interno di MailChimp, vediamo che qui abbiamo tutta una serie di blocchi che ci permettono di generare dei contenuti, di inserire nella mail dei contenuti di vario tipo. E infatti oggi noi mandiamo delle newsletter abbastanza ricche e corpose. Se ci vogliamo mettere del testo, inseriamo un blocco di testo e qui abbiamo un editor in cui possiamo formattare, inserire link, anche lavorare direttamente sul codice HTML. se vogliamo mettere delle immagini abbiamo il blocco immagini in cui possiamo mettere una normale JPEG ma anche una GIF animata per la gioia di Silvia. Abbiamo dei blocchi video più immagine che sono anche questi uno strumento estremamente comodo quando dobbiamo affiancare a un'immagine delle didascalie e l'immagine può anche essere linkata. Noi usiamo i blocchi testo più immagini per distribuire le interviste e farvi vedere in anticipo le facce delle persone che incontrerete qua. Abbiamo dei blocchi video in cui basta semplicemente inserire l'URL di un video su YouTube o su Vimeo per avere un video embeddato nella mail che in molti casi parte direttamente da dentro la mail. E abbiamo naturalmente dei blocchi che ci permettono di creare facilmente dei pulsanti, pulsanti a cui possiamo associare dei link che vanno da qualche parte sul web ma anche dei file da scaricare. Ad esempio il menu di la cucina di Flo voi cliccando sul link, cliccando sul pulsante ve lo siete scaricati direttamente. Ci sono naturalmente anche tante altre piccole caratteristiche e funzionalità che ci permettono di lavorare velocemente di risparmiare tempo e di lavorare meglio sono ad esempio la possibilità di pianificare l'invio, la partenza delle campagne email la possibilità di importare immagini direttamente scrivendo l'URL voi avete nel vostro blog un'immagine che volete inserire non dovete scaricarla e ricaricarla potete semplicemente recuperare il link dell'immagine e MailChimp pensa lui a scaricarselo dal server e a infilarlo dentro la mail. L'editor di immagini interno che è molto utile quando abbiamo bisogno di applicare dei filtri di sistemare, fare dei resize fare dei crop senza di nuovo uscire e ripreparare il repository delle immagini e dei documenti che permette velocemente di riutilizzare cose che abbiamo già usato e per gli account MailChimp che sono collegati a degli e-commerce i blocchi prodotto che permettono di inserire velocemente un blocco con l'immagine del prodotto la sua descrizione e il suo prezzo volendo una descrizione aggiuntiva e un pulsante che punta direttamente alla pagina in cui acquistarlo una delle cose fondamentali quando si fa email marketing è capire che non tutte le persone non tutti i nostri iscritti sono uguali quindi distinguere e segmentare le persone in modo da non scrivere tutto a tutti per noi del freelance camp la cosa più importante è distinguere in base al fatto che le persone a cui scriviamo siano iscritte o non siano iscritte alla particolare edizione di freelance camp di cui noi stiamo lavorando in questo momento quindi una delle prime cose che abbiamo fatto nella gestione della nostra audience che allora si chiamava lista è stata quella di creare un gruppo il gruppo è una opzione di MailChimp è un campo speciale della lista in cui noi possiamo mettere più valori quindi una persona può avere partecipato a più di una edizione del freelance camp e la utility del gruppo ci permette di registrare per ciascuno di voi a quali freelance camp siete venuti vi siete iscritti quindi noi abbiamo creato il nostro gruppo edizioni e a ogni edizione aggiungiamo l'opzione dal 2012 a questa 2019 Roma e quando voi vi iscrivete vi inseriamo nell'edizione giusta a cui vi siete iscritti quindi ad esempio questo è il profilo di Letizia Palmisano Letizia è venuta nel 2017 a Roma e nel 2019 a Roma noi per ciascuno di voi sappiamo a quale edizione avete partecipato o non avete partecipato e questo fa sì che noi quando mandiamo le nostre newsletter durante le settimane e i mesi che precedono ogni edizione possiamo distinguere voi che siete stati iscritti quelli di voi che si sono iscritti qualche mese fa o qualche settimana fa hanno ricevuto una newsletter a settimana perché noi per prepararvi per scaldarvi prima di arrivare qua vi mandiamo tutte le settimane le novità la call for speaker le istruzioni per arrivare le interviste che sono uscite nella settimana però ogni tanto scriviamo anche a quelli che non si sono ancora iscritti un po' per invitarli a iscriversi un po' anche comunque per tenerli aggiornati su quello che sta succedendo quindi per noi il fattore principale di segmentazione quando impostiamo una campagna è questo a chi state mandando questa campagna? agli iscritti del freelance che partecipano all'edizione 2019 Roma oppure quando mandiamo la mail mensile ai non iscritti che non partecipano non off edizione 2019 Roma è importante naturalmente anche preparare le persone al tipo di messaggi che riceveranno perché naturalmente voi vi scrivete però magari non per tutti è scontato che il fatto di essersi iscritti generi l'invio di una mail a settimana quindi per evitare dei qui por qua per evitare diciamo dei misunderstanding o il fatto che persone magari si disiscrivano perché non vogliono ricevere troppe mail noi li prepariamo prima quindi nel momento in cui voi comprate il vostro biglietto per un'edizione e noi vi aggiungiamo al gruppo 2019 Roma vi arriva un messaggio automatico le automation di MailChimp sono uno strumento potentissimo e noi ne usiamo spesso e questa che usiamo in questo caso è un'automation collegata all'ingresso dell'iscritto in un gruppo quindi un'ora dopo che un contatto è stato aggiunto al gruppo edizione 2019 Roma parte un messaggio benvenuto Roma 2019 e questo messaggio dice tante cose di come funziona quindi risparmia noi il lavoro di dare ai nuovi iscritti ai nuovi partecipanti delle informazioni pratiche che sono sempre più o meno le stesse e soprattutto spiega perché non devi cancellarti dalla newsletter che cosa scriveremo da qui a quando arriverai usiamo anche i tag che sono una feature di MailChimp arrivata da pochi mesi e che hanno sostituito funzionalità precedenti come i segmenti fissi i tag noi li usiamo anche per distinguere chi effettivamente ha partecipato o chi non ha partecipato per cui nei prossimi giorni noi manderemo dei messaggi post evento naturalmente manderemo un messaggio particolare a chi non era iscritto dicendogli va bene ti sei perso il freelance camp Roma è stato bellissimo puoi vedere tutti i video qua ma quelli che erano iscritti se sono venuti come voi che siete qui in sala adesso riceveranno un messaggio è stato bello vedersi e ecco quello che è successo quelli che si erano iscritti ma che per un motivo o nell'altro non sono riusciti a venire noi gli avremmo messo un tag apposta in modo che le campagne che partiranno saranno di due tipi questa è stato bellissimo vero Alessandra e questo che peccato che tu non ci fossi Alessandra il contenuto in parte è simile ma in parte è diverso a chi è venuto ringraziamo e ricordiamo quello che è successo chi non è venuto gli ricordiamo l'URL dove può guardarsi tutti i video per recuperarli quando ha tempo e vi faccio notare i tassi di apertura di questi messaggi 83% 85% 90% 82% tanta roba perché davvero segmentare è la chiave per fare un buon email marketing più noi segmentiamo più riusciamo a evitare di scrivere alle persone delle cose a cui non sono interessate che è la chiave per aumentare la rilevanza noi non possiamo aumentare la rilevanza noi possiamo solo diminuire l'irrilevanza quindi segmentare è la nostra chiave per diminuire l'irrilevanza e farci volere più bene dalle persone che ricevono i nostri messaggi devo dire ho parlato di automation non pensate che fare buon email marketing sia una roba che si fa da sola quelli che a volte vendono le automation le vendono come set it and forget it non è così non ti puoi dimenticare delle automazioni non ti puoi dimenticare della buona gestione delle liste c'è un'opera diciamo quasi zen di manutenzione delle liste di manutenzione delle automazioni noi ad esempio una cosa che facciamo è controllare ogni tanto perché alcuni di voi capita che magari vi scrivete alla newsletter con un indirizzo email poi comperate il biglietto per il freelance camp usando un altro indirizzo oppure vi siete dimenticati che vi siete iscritti e vi scrivete un'altra volta e per noi questo è un po' un casino perché noi abbiamo bisogno che la vostra storia sia raccolta in un punto solo quindi più o meno una volta all'anno facciamo un controllo ed è un controllo manuale io mi scarico tutta la lista la ordino per nome e cognome controllo se ci sono dei nomi e cognomi uguali e alle persone che hanno che sono presenti secondo me due o tre volte mando un messaggio che dice così ciao Alessandra sto mettendo in ordine la mailing list del freelance camp che è uno strumento di lavoro eccetera eccetera sembra che Alessandra Ferrabegoli ci sia due volte cosa vogliamo fare? abbiamo trovato due indirizzi email con il tuo nome e cognome è un caso di omonimia o una doppia iscrizione? devo dire quest'anno ci è successa una cosa buffa anche un po' imbarazzante gli anni passati noi sto controllo dei doppi lo facevamo un po' per tempo quindi la richiesta era dici con quale indirizzo preferisci ricevere i nostri messaggi e ci pensiamo noi a mettere a posto le cose quest'anno ci siamo ricordati di fare il controllo dei doppi tipo una settimana prima dell'edizione di Marina Romea quando eravamo affogate fin qua di robe da fare e quindi ho detto vabbè dai sai che c'è facciamo che si disiscrivano loro direttamente e quindi ho messo questa call to action importante se hai fatto l'iscrizione due volte cancellane una adesso quindi usa il link unsubscribe in fondo e dato che le persone quando ricevono delle indicazioni così precise generalmente le seguono c'è stato un 20% di unsubscribe e questo 20% di unsubscribe su una singola campagna ha generato immediatamente un flag di allarme dentro MailChimp quindi io per la prima volta nella mia onorata carriera di mail marketing ho ricevuto un alert con MailChimp che mi diceva ma è successo qualcosa stai facendo hai troppi unsubscribe su questa campagna è uno spam alert e quindi ho dovuto spiegare no ma guardate non è successo niente di grave gliel'ho detto io di cancellarsi perché insomma sono naturalmente quando le campagne generano reazioni negative che possono essere tanti rimbalzi se stiamo scrivendo a una lista obsoleta con tante email vecchie o possono essere come in questo caso delle disiscrizioni che possono far pensare che stiamo facendo spam ci sono dei sistemi automatici di controllo che insomma si interrogano su che cosa sta succedendo e avvisano il proprietario dell'account di rimettersi sulla retta via naturalmente noi eravamo già assolutamente sulla retta via avevamo semplicemente cercato una scorciatoia per risparmiarci un po' di lavoro non lo faremo più MailChimp prometto io oggi vi ho raccontato come abbiamo usato noi MailChimp per il nostro progetto sperando che questo dia delle buone idee a ciascuno di voi sia su come usare MailChimp per promuovere se stessi o MailChimp o qualunque altro mailer perché naturalmente le funzionalità di cui vi ho parlato sono più o meno disponibili in tutti gli strumenti professionali per fare email marketing quindi la scelta di fare un talk didattico è perché noi riteniamo che chi fa chi lavora da indipendente o chi ha anche una piccola attività di qualunque tipo molto spesso se usa bene la mailing list ne può trarre degli ottimi vantaggi immagino che in sala o fra quelli che ci seguono in streaming ci sia anche qualcuno che oltre a usare l'email marketing per se stesso usa MailChimp anche per i propri clienti e in questo caso se per chi di voi fa email marketing anche per i propri clienti vi invito a ragionare un attimo a considerare l'opportunità di entrare nel programma partner MailChimp non è detto che vi invitino ad Atlanta ve lo dico subito anzi probabilmente non succederà ma sicuramente avrete modo di accedere a delle risorse estremamente utili per fare meglio la vostra attività di marketing per i vostri clienti vi manderanno documentazione extra hanno in programma un piano di certificazione per i partner che vi darà ulteriore diciamo accreditamento verso i vostri clienti ieri mattina quando abbiamo fatto la liste sul personal branding con Luigi Centenaro una delle caselle da compilare era che cos'è che ti rende credibili avere una certificazione è una delle piccole dei piccoli mattoncini che ci rendono più credibili insomma se fate email marketing in maniera professionale anche per i clienti un giro nel programma partner vi conviene farlo prima di ringraziarvi e di ringraziare MailChimp un'ultima cosa la nostra social media manager a Roti girerà oggi e domani mattina con Freddy che è la mascotte storica di MailChimp e vi chiederà se ne avete voglia di raccontare un piccolo progetto di email marketing che avete in mente un qualcosa che avete in mente in cui l'email vi può aiutare per voi o per i vostri clienti sceglieremo le tre storie più carine più divertenti più interessanti che riceveranno in premio un meraviglioso Freddy preziosissimo da collezione io vi ringrazio ringrazio di nuovo MailChimp e naturalmente se avete domande su MailChimp o sul programma partnership poi nei box networking sapete dove trovarmi ciao grazie Alessandra